Ciao amici, oggi vi presento il mio nuovo acquisto, l'ho comprato ieri ed è la macchina per fare il caffè Nescafè Dolce Gusto l'ho trovata in offerta da 1 euro a 50 euro, quindi in promozione credo che sia un prezzo ottimo per questo macchinario automatico per il caffè la prima cosa che ho fatto è montare il serbatoio per l'acqua come vedete vapore un po' ma non è un problema, lo sciacquate semplicemente lo riempite con dell'acqua di rubinetto o di bottiglia se preferite nel frattempo ho acquistato anche delle capsule mi hanno detto al negozio che queste sono le capsule originali in questo caso ho preso il cortado, vuol dire una specie di cappuccino espressino, marocchino come viene chiamato nelle varie parti d'Italia perché io al pomeriggio preferisco appunto questo invece per una maggiore carica ho preso queste capsule compatibili di caffè borbone essendo appunto una miscela più intensa quindi per un effetto più pimpante la mattina prima di lavorare e diciamo non sono molto contenta di aver acquistato queste capsule perché prendendone il pacco da 15 mi sono venute a costare circa 50 centesimi l'una ma ho visto che su internet se acquistate dei pacchi convenienza sul sito ufficiale vi vengono a costare davvero una sciocchezza tipo 10 centesimi l'una se prendete quindi un pacco scorta e quindi con questa macchina si possono utilizzare queste quindi quelle ufficiali Nescafè e queste compatibili caffè borbone ora vi mostro come utilizzare questa macchina allora semplicemente dovete sollevare questo coperchietto tirare fuori il vano delle capsule io ho difficoltà ad aprirlo perché mantengo il cellulare ma vi assicuro che è molto facile un attimo lo poggio appunto è stato sufficiente appunto premere questo bottoncino questa è la capsula che ho usato stamattina quindi la rimuovo purtroppo con una mano è tutto complicato allora la rimuovo ed è stata appunto utilizzata e la getto nella raccolta differenziata della plastica spero si possa fare dato che contiene dei residui di caffè ma comunque preferisco buttarla fare la differenziata dato l'utilizzo di tutte queste capsule in plastica e mi preparo quindi una capsula per degustare quindi un espressino o marocchino quindi mentre queste capsule non hanno la linguetta queste invece ce l'hanno e dovete rimuoverla prima dell'utilizzo pongo semplicemente la capsula all'interno chiudo il vano contenitore e lo ripongo qui in basso abbasso il coperchietto allora a questo punto questa macchina vi permette di preparare bevande calde se preferite o durante l'estate bevande fredde o in qualsiasi momento dell'anno se preferite bere il caffè freddo o bevande a base di caffè ad esempio con il latte in questo caso quindi dovete semplicemente spostare la levetta per avviare la spremitura della capsula quindi la fuoriuscita di caffè o dal lato caldo o dal lato freddo questo bottoncino verde è un bottoncino scorrevole quindi attraverso questo movimento del bottoncino potete regolare le dimensioni del caffè quindi se lo volete estremamente ristretto se lo volete un po' più lungo o se lo volete molto lungo fino ad XL che è una specie di caffè americano molto diluito io in questo caso preferisco quindi una versione intermedia quindi ciò che vado a fare è porre una tazza al di sotto ruotare dal lato caldo rilascio e in pochi secondi ottengo la mia bevanda buonissima a base di latte e caffè vabbè la mia tazza è leggermente enorme ma potete vedere questa è la quantità che all'incirca al bar vi va come cappuccino o come espressino quindi estremamente soddisfatta dell'acquisto il mio prossimo passo sarà quello di acquistare le capsule non in negozio perché circa 15 capsule vi vengono tra 5 e 6 euro credo sia un po' eccessivo quindi le acquisterò sul sito ufficiale in modo da avere un certo sconto comunque come idea per regalo di natale per un compleanno per i vostri genitori per il vostro partner ve la consiglio perché è davvero estremamente facile da usare e maneggevole ciao e alla prossima